Hi guys, welcome back to my lessons. Ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni d'inglese. Nel video di oggi vorrei affrontare un argomento che mi avete chiesto in tantissimi su Instagram, ovvero ma quando si usa l'articolo the in inglese? Ebbene, adesso sto per spiegarvelo. Prima di tutto ciò però, come sempre, vi chiederei di iscrivervi qui al mio canale di YouTube, di attivare la campanellina per vedere tutti i prossimi video e di venire su Instagram alla pagina school2you__milan dove ogni giorno metto nelle storie un quiz in inglese, spagnolo e in francese e dove anche voi da casa potete scegliere i prossimi argomenti da trovare qui sul canale di YouTube. E ora possiamo cominciare! E dunque, ma quando si usa questo articolo the? Allora, facciamo una piccola premessa. Diciamo che noi italiani abbiamo un po' la tendenza a mettere l'articolo ovunque. Addirittura qui al nord, diciamo addirittura, ho sentito la Laura, ho chiamato il Roberto, quindi della grammatica italiana non vorrebbe mai che si mettesse l'articolo determinativo davanti a un nome proprio, però noi ci siamo affezionati e quindi ce lo mettiamo proprio dappertutto. Quindi, facendo un passo indietro, dobbiamo pensare che invece l'inglese è come sempre delle regole ben precise. Però, d'altro canto, non possiamo lamentarci del the. E sai perché? Te lo dico subito. Il the è l'articolo determinativo e si può applicare a tantissime categorie di parole, ovvero a sostantivi maschili come per esempio the boy, il ragazzo, oppure the boys, i ragazzi, quindi anche singolare e plurale sta sempre the. The girl, ovvero la ragazza, the girls, le ragazze, the sugar, lo zucchero, quindi un sostantivo anche non numerabile, non solo maschile, femminile, plurale e singolare, ma anche con i non numerabili. The elephant, l'elefante o the elephants, quindi anche davanti ai sostantivi che iniziano con la vocale. E a cosa corrisponde in italiano questo articolo determinativo the? Abbiamo uno al prezzo di sette. Il, i, la, le, lo, l' e gli. Insomma, non possiamo sicuramente lamentarci. Detto questo, però, è importante sapere quando di fatto si utilizza all'interno di una frase. Prima di farti vedere nel dettaglio quando, vorrei dirti un'ultima cosa. Magari l'hai già notato. In caso contrario, te lo ridico. Senti bene come cambia la pronuncia di questo articolo se si trova davanti a un sostantivo che inizia con la consonante o a un sostantivo che invece inizia con la vocale. The boy, the boy, ma sarà invece the elephant, the elephant. Praticamente, come c'è scritto sotto, la pronuncia dell'articolo the cambia se si trova davanti ad una parola che inizia per consonante o per vocale. Nelle parentesi quadre, quei simboli strani sono i simboli fonetici. La pronuncia è the boy, the elephant, quindi un po' come se fosse una e, the boy, ma diventa una i quando abbiamo invece una vocale. E ora siamo nel cuore di questa lezione. Sì, ok Giulia, adesso però dici quando usiamo il the e quando non lo usiamo. Ve lo dico subito. Ho diviso le prossime slide in quando l'articolo the va messo e perché, quindi in tutte le categorie, e quando invece assolutamente non va messo e perché. Iniziamo a vedere le slide dove vi spiego perché l'articolo the va assolutamente messo. Eccole qua. L'articolo the ci vuole per indicare persone o cose specifiche, come nella frase give me the black bag. Vi ho messo in corsivo black perché in effetti è una cosa specifica, la borsa nera, quindi dammi la borsa nera. Molto molto specifico, quindi non solo voglio la borsa ma voglio quella nera, quindi in questo caso il the andava messo. Oppure mettiamo il the per parlare di cose nominate in precedenza. Ad esempio, Paul works in a school. Paul lavora in una scuola, poi c'è un punto e riprendo. The school is very big. La scuola, sottinteso dove lavora Paul, è molto grande. Quindi in questo caso avevo già menzionato la scuola e quindi posso assolutamente mettere l'articolo determinativo perché determina una cosa che ho già menzionato. Oppure mettiamo l'articolo the per indicare persone o cose uniche. The Eiffel Tower is in Paris. Oppure the sun is a star. Letteralmente la tour Eiffel è a Parigi e il sole è una stella. Nello specifico sono cose, in questo caso, uniche sia la tour Eiffel che il sole. Oppure utilizziamo il the con gli strumenti musicali. I play the piano. Io suono il piano. E lo mettiamo con le parti del giorno con la preposizione in. In the afternoon, in the evening, in the morning. Ok? Quindi nel pomeriggio, nella sera e nella mattina. Non vi ho messo at night perché non si dice at the night ma at night infatti c'è la preposizione at davanti a night. Oppure possiamo assolutamente, dobbiamo mettere l'articolo the in queste altre categorie. Con nomi di arcipelche, quindi insieme di isole, catene montuose, ovvero insieme di montagne, deserti, oceani, mari e fiumi. Come nella frase I love the Maldives, adoro le Maldive, o I visited the Gobi Desert, ho visitato il deserto del Gobi, o the Po is a long river, il Po è un fiume lungo. Utilizzerò il the anche per i nomi propri di luoghi e locali pubblici come cinema, teatri, musei e hotel. Come ad esempio I visited the Louvre, ho visitato il Louvre. Altresì lo utilizzerò davanti ai nomi di popoli. I portoghesi erano conquistadori, se no diremo conquistatori. Con le categorie di persone, ad esempio I ricchi e i poveri hanno gli stessi diritti. E in ultimo abbiamo il the da scrivere, quindi da pronunciare, in quest'ultima categoria. Con i periodi e gli eventi storici. The Second World War Begun in 1939. Quindi la Seconda Guerra Mondiale iniziò nel 1939. Quindi come faccio a ricordarmeli? Scrivendoli. Scrivendoci nel senso, almeno le categorie, familiarizzando. Io per questo ve li ho messi in un contesto, perché dirvi solo le categorie lascia un po' il tempo che trova. Vi ricordo che imparare le categorie a sé stanti senza degli esempi pratici non ci aiuta tanto nella memorizzazione. Questo l'abbiamo detto in tantissimi video. E quindi le frasi, secondo me, sono degli esempi eloquenti. E ora veniamo al nostro tallone d'Achille. Nostro degli italiani. Che sono le categorie grazie alle quali, o a causa delle quali, l'articolo the non ci va. E sicuramente noterete che quando vi andrò a tradurre la frase, invece in italiano c'era l'articolo determinativo, in quasi tutte queste categorie. Però in inglese no. Quindi il nostro vero, diciamo, dilemma è quando non metterlo. E dunque, quando non devo mettere l'articolo the? In questi casi, davanti a sostantivi usati in modo generico. Ad esempio, io volutamente ve l'ho messo in grigio, chiarissimo, per farvi capire dove volendo avremmo potuto mettere l'articolo. La frase intera sarà Children love animals. Perché? Tutti i bambini in media amano tutti gli animali. Quindi è una cosa generica, non ho bisogno di dire il the in questo caso, perché è Children love animals. Però, ci ho pensato, in una categoria un po' diversa, in una frase un po' diversa, avrei potuto mettere due volte il the, come nella frase The children in the zoo love the animals they see. Ovvero, i bambini nello zoo amano, adorano gli animali che vedono. Quindi, i bambini specifici che sono nello zoo in questo momento amano gli animali specifici che sono in questo momento allo zoo. Ok? Quindi, in questa categoria sono specificati e quindi posso mettere il the. Non lo devo mettere il the, invece, davanti alla maggior parte dei nomi di paesi. Italy is an amazing country. Letteralmente. L'Italia, vedete che io qua mi viene definito dire l'Italia, è un paese fantastico. Però, con i paesi al plurale, che indicano una pluralità, per esempio, gli Stati Uniti d'America, gli Emirati Arabi, il Regno Unito, quindi in inglese diventa the USA, the United Kingdom, e the Emirates. In questo caso, invece, il the va espresso. Quindi, controllate magari voi quali sono le countries with the article. Dovete cercarli. Sono, in media, quelli che sono al plurale. Oppure non va l'articolo the con i concetti astratti, come per esempio, may peace and love reign. Letteralmente, che la pace e l'amore possano regnare. Ok? Anche qua, senti, che l'amore e la pace, o meno, che la pace e l'amore possano regnare. Anche in italiano, ovviamente, l'articolo invece c'è. Ma fa un po' accezione, se invece dico the peace of this place is amazing. La pace di questo posto è fantastica. Quindi, la pace non è più il concetto astratto della pace, nel senso di non guerra e non odio, ma la pace, la tranquillità, sinonimo, che trovo in questo posto è fantastica. Quindi, in questo caso, invece, l'articolo ci va. Proseguiamo. Non lo metteremo nemmeno per ciò che riguarda le materie scolastiche, gli sport, i giochi, i pasti e i colori. Come nell'esempio I don't like physical education. Non mi piace educazione fisica. Oppure I play soccer. Quindi, io gioco a calcio. O I'm having lunch. Sto pranzando. Sto avendo il mio pranzo. Oppure I love blue. Io amo il blu. Non ci va, ancora una volta, per quanto riguarda i numeri cardinali e le percentuali. My lucky number is nine. Oppure I have heard twenty percent less this year. Ancora una volta, tradurrei con il mio numero preferito è il nove e ho guadagnato il 20% in meno quest'anno. Ok? Quindi, anche in questo caso, un po' l'articolo ce lo metterei. Ancora una volta, in inglese, con la prossima slide, non mettiamo l'articolo per quanto riguarda festività, giorni della settimana, mesi, anni e ore. Ad esempio, I hate Monday. Io odio il lunedì. Oppure, I love Christmas. Adoro, amo il Natale. Ancora una volta, I was born in January. Sono nata a gennaio. Eh, una volta tanto, anche noi in questo caso, l'articolo non ce lo mettiamo. e non lo mettiamo in inglese neanche per quanto riguarda i nomi di isole e montagne, singole e i laghi. Quindi, per assurdo, per quanto riguardava gli arcipelaghi, ce lo volevamo. Le catene montuose, anche. I fiumi, sì, ma i laghi, no. E le isole, le montagne singole, nemmeno. Come nella frase, ad esempio, Sardegna is my favorite island. La Sardegna è la mia isola preferita. Oppure, Mont Blanc is a very high mountain. Letteralmente, il Monte Bianco è una montagna molto alta. Quindi, anche qua, l'avrei messo sia per la Sardegna che per il Monte Bianco. Oppure, Lake of Como is beautiful. Il lago di Como è bellissimo. Come puoi notare, noi ce lo cacciamo ovunque questo articolo. L'ultima categoria, grazie alla quale non mettiamo l'articolo the, è con le lingue straniere, ma senza il sostantivo language. Osserva la differenza. I love French, però, dovrò dire invece, I love the French language. Quindi, se c'è il sostantivo language, devo metterci il the, ma se non c'è, niente the. Ok? Quindi, queste sono un po' le macro categorie. Ti consiglio, come ho detto prima, di scriverteli e di fare un po' di pratica. Ma se speravi che fosse finita qui, ti sbagliavi, perché nella prossima slide ti si aprirà un mondo. Ovvero, te lo dico nel dettaglio, leggiamola insieme. con i sostantivi di luogo quali bed, school, university, college, hospital, church, prison, and sea, va messo l'articolo determinativo quando indico il luogo, ovvero l'edificio, la struttura, oppure nel caso del letto, il letto di per sé. Ma non ce lo metto quando invece indico la funzione che quell'oggetto, quel luogo, quell'edificio ha. Quindi, provo a farti gli esempi e poi te lo spiego meglio. È diverso dire my mom is in the church right now. Mia mamma è in chiesa in questo momento. Magari è semplicemente all'interno della chiesa, non si trova in questo momento nell'edificio. Ma se io dovessi dirti I go to church every week è diverso perché ti sto dicendo io vado in chiesa tutte le settimane sottintendendo che vado alla messa, vado a pregare. Invece, magari mia mamma può essere in chiesa in questo momento ma è un caso isolato. Metti caso che magari in questo momento fuori piove e lei sia entrata per dire per ripararsi. Quindi non è necessariamente legato alla funzione della chiesa. Non so se mi sono spiegata. Il secondo esempio proviamo a rivederlo. Dice I'm going to the hospital to visit Mary. Sto andando all'ospedale per fare una visita a Mary, per visitare Mary. diverso da dire Mary is still in hospital after the operation. Quindi se io posso dire vado all'ospedale nell'edificio dell'ospedale perché all'interno si trova la mia amica Mary. Diverso è dire che Mary è a questo punto dentro l'ospedale e sta sfruttando nella funzione perché ha avuto un'operazione. Quindi in questo caso il the invece non ci va. idem dicasi per la questione del letto diverso sarà dire stop jumping on the bed ok? Letteralmente smettila smettetela di saltare sul letto quindi sull'oggetto del letto specifico o dire invece Paul is still in bed quindi letteralmente Paul è ancora a letto. Quindi in uno vuol dire che i bambini per esempio i ragazzi qualcuno sta saltando sul letto mentre nel secondo caso Paul sta ancora dormendo che è di fatto la funzione principale del letto e non tanto essere un tappeto elastico. In tutto ciò però non poteva andarci bene così come puoi notare c'è un bel simbolo sotto che ci dice che invece i sostantivi quali cinema circus disco office park stadium swimming pool and theater sono sempre preceduti dall'articolo come ad esempio let's go to the cinema oppure Nelly is in the office o I want to go to the disco quindi andiamo al cinema Nelly è in ufficio voglio andare in discoteca quindi addirittura noi non ce l'avremmo in questo caso andiamo solo al cinema Nelly è in ufficio non c'è nessun articolo oppure nell'ultima andiamo in discoteca voglio andare in discoteca in questo caso invece non abbiamo l'articolo in inglese invece sì non poteva essere più semplice giusto no quindi queste sono un po' le categorie e ora mi sono detta qual è il modo migliore per assicurarmi che mettiate in pratica tutto quello che vi ho detto facendovi fare un bellissimo esercizio quindi nella prossima slide ci sono alcune frasi e vi chiederò di inserire dove necessario l'articolo determinativo vediamolo insieme inserisci l'articolo determinativo dove necessario osserva l'esempio avevamo I visited spazio Sahara Desert letteralmente ho visitato potete dire deserto del Sahara la frase in questo caso i deserti volevano l'articolo determinativo e quindi ce l'ho dovuto mettere quindi diventa I visited the Sahara Desert ora come sempre ti consiglio di mettere in pausa il video di provare anche solo su un pezzo di carta dove vuoi tu a pensare se nella frase 1, 2, 3 metteresti l'articolo e soprattutto ti chiedo a questo punto di pensare perché lo metteresti che questa è la vera difficoltà e ci vediamo alle soluzioni ebbene è stato difficile facile alcune frasi le ho messo un po' complicate perché almeno così ti metto veramente alla prova iniziamo con la numero 1 in questo caso l'articolo ci andava perché il rinascimento è un periodo importante con i periodi storici come nell'esempio della seconda guerra mondiale l'articolo andava espresso numero 2 letteralmente quando ho visitato la Spagna ma in questo caso davanti ai nomi dei Stato non ci va l'articolo sono stato sono stata soggiornato presso in questo caso davanti ai nomi propri degli hotel andava messo the Excelsior Hotel quindi l'hotel Excelsior numero 3 letteralmente le Alpi sono più alte degli appennini in questo caso le catene montuose volevano articolo quindi ce l'ho messo due volte le Alpi sono una catena e anche gli appennini 4 Marco Marco suona la chitarra due volte alla settimana di lunedì e di giovedì in questo caso davanti agli strumenti musicali ci andava l'articolo davanti ai nomi del giorno della settimana no numero 5 forse questa era un po' più difficilotta sugar is bad for your teeth letteralmente lo zucchero non va bene è cattivo tra virgolette per i tuoi denti ovvero tutto lo zucchero in generale in quante quantità si sa che non fa bene una categoria generale quindi in questo caso non ci metto l'articolo e l'ultima è quella un pochettino più cattivella ovvero in the afternoon I go to the school to collect my sister then I help her to study letteralmente di pomeriggio vado a scuola inteso come edificio perché vado a prendere mia sorella perché poi l'aiuto a studiare ok quindi in questo caso io avevo una parte del giorno con la proposizione in e quindi ci andava il de e poi la scuola intesa come edificio dove va mia sorella ma io in questo momento non vado a svolgere cioè non vado per la funzione della scuola ovvero non vado a studiare lì ma vado all'edificio dove esce mia sorella in questo caso invece il de andava messo come sono andate queste frasi? erano facili difficili medie diciamo che sicuramente ci vuole un po' di tempo per metabolizzare tutte queste regole ci vuole un po' di pratica ma spero che questo video ti abbia chiarito un po' di dubbi e soprattutto come mai magari alcune volte l'articolo ce l'avevi visto davanti a school davanti a hospital e invece altre volte no di fatto queste sono un po' tutte le macro categorie nelle quali possiamo dividere l'uso dell'articolo e invece quando invece va omesso per questo video è tutto ti lascio in descrizione al video comunque il link per i miei video corsi di inglese se per caso vuoi dare un'ulteriore svolta a questa lingua e imparare quindi arrivare fino al livello B2 seguendo un percorso passo passo ti aspetto su Instagram ormai lo sai alla pagina school2u underscore milan e se ti è piaciuto questo video lasciami un like per tutto il resto thank you very much for watching and have a nice day bye bye ciao 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 ciao